Come mai Bucci non ha montato Casallo? Non ha montato Casallo per due motivi. Prima di tutto perché Casallo, Kamanai, l'ha rappresentato con un problema da una doppia gabbia e quindi non dava tutte le certezze che poteva dare invece il suo nuovo cavallo, nuovo dico per questo tipo di impegno che peraltro l'ha fatto con eccellente Xio precedentemente, facendo in Coppa 4-0 e infatti il soggetto ha dimostrato un'estrema regolarità. A questo punto andava bene che la Giorgia Martinelli? Se non avesse avuto il problema della Riviera che purtroppo ha scombinato tutta la sua eventuale partecipazione che avrebbe potuto sostituire probabilmente il nostro bravissimo Emanuele Gordiano con un cavallo più dall'altezza della situazione. Vorrei sottolineare tra l'altro che Emanuele Gordiano si è presentato dal campionato europeo ovviamente non nelle prove del campionato ma nelle gare raggiunte con un ottimo cavallo grigio che ha vinto le due gare del primo e secondo giorno e ha fatto sempre per corso netto nel Gran Plano. Questo sarà un cavallo di grande futuro e dobbiamo tenere in grande considerazione per il quale stiamo già facendo un programma specifico per poter pensare qualora Gordiano sia qualificato per le Olimpiadi tra l'una partecipazione olimpica. Grazie per la visione!